Salve a tutti carissimi amici, bentornati con Pennelli del Guerzo e di Flavio, ciao a tutti. Oggi io e Flavietto facciamo un video che onestamente non avremmo mai pensato di fare. No, assolutamente. Perché? Allora, è uscito l'AirTag e tutti hanno, wow, gridato al miracolo, è uscito finalmente un dispositivo tecnologico, multimediale, una rivelazione in casa Apple, una rivelazione per tutti, alla fine c'era già, o meglio, c'era sotto forma di Samsung, ma addirittura, io mi ricordo, un IFA di Berlino dove allo stand Google mi regalarono un Tiles da mettere nel marsupio, mettere nel portafoglio. Quello era per sapere dov'eri, lo sanno tutt'ora dove sei. Lo sapevo, lo sapevo, mi controllano. Quindi in questo video, ragazzi, parleremo intanto di un'azienda italiana, perché quando si parla comunque di azienda italiana a noi fa piacere, perché anche noi siamo un'azienda italiana, quindi ci fa sempre piacere parlare del Made in Italy, e poi parleremo anche dell'AirTag, non vi preoccupate, cosa ne pensiamo se io che è Flavio. Mettetevi comodi, condividete il video, iscrivetevi al canale YouTube e lasciate un bel like per supportarci. Allora ragazzi, prima di tutto, questo è un video sponsorizzato da Apple? Direi di no. Come no? No. Ti ricordi i chilometri che hai macinato per andare a cercare l'AirTag? Amazon lo consegnava dopo un mese, Media World non ce l'aveva. No, cioè non si trova. A Firenze è introvabile, poi l'abbiamo trovato. In terra? No, l'abbiamo comprato. Comprato, ok. L'ho andato al negozio, l'ho comprato, questo perché? Perché, allora ragazzi, lo sapete, se mi seguiste su Instagram, è ormai 3-4 mesi che io utilizzo il portafoglio degli YouTuber, lo chiamano così, il portafoglio che ormai tutti utilizzano, ed è targato Moero. Moero è un'azienda italiana, totalmente italiana, che lavora a Napoli, ed è un'azienda che produce portafogli molto piccoli e compatti, io ne vado pazzo perché è il telefono grande, è qui, insomma, le tasche sono sempre più piccole, e quindi avere un portafoglio compatto, anticlonazione e soprattutto carino, perché alla fine è un bel portafoglio, a me ha fatto sempre piacere. C'è da dire una cosa, loro sono molto intelligenti, secondo me hanno fatto una bella mossa, cosa hanno immunito, cioè l'AirTag a cosa serve? Eh, a localizzare fondamentalmente, localizzare gli oggetti, forse più gli oggetti che le persone, non so. Diciamo gli oggetti, dai, andiamo sugli oggetti. Quante volte, almeno a me è successo un botto di volte, esco di macchina, mi dimenticavo il portafoglio, e lì entro in panico, perché insieme, no, l'ho perso, non ci posso credere, ma l'aminata di rifà tutte le carte. Lui c'è il portafoglio sempre bello gonfio, perché è un macello se lo perde lui. Ci metto il cotone dentro. Come nei pantaloni. Si gonfia. Ragazzi, di conseguenza, AirTag più Muero, uguale un portafoglio, non dico sicuro, perché alla fine, dai, sicuro è solo la morte. Si può anche levare, però diciamo che hanno reso un'idea molto concreta, quindi nella parte posteriore, dove si inserisce le monete, hanno creato un inserto dedicato per l'AirTag. Quindi, in bisogno, come succede sempre nel mio caso, voi potete aprire l'applicazione Dov'è, che è un'applicazione, ovviamente, inserita nel vostro iPhone, che vi dirà e vi geolocalizzerà il vostro portafoglio se avete l'AirTag inserito, appunto, nel portafoglio stesso. Si potrebbe già mettere nel portamonete, eccetera, eccetera, però loro hanno voluto creare, secondo me, qualcosa di molto carino e interessante. Anche perché io non sono un cultore dei portafogli, cioè quello che John Tasker in questo momento è un portafoglio da 6 euro comprato dal casalinghi cinese. No, vabbè, ora, ora, dopo ti do uno. Quindi, cioè, per dire, però, ecco, rispetto a tante altre soluzioni, questi sono pratici, si presentano bene, e non perché non c'entra niente sponsorizzazione, non sponsorizzazione, cioè sono veramente, se li toccate con mano, realizzati bene, comodi, sono ben progettati. Anche perché ora poi passerà nel video, ragazzi, io questo portafoglio lo tengo in tasca da tre mesi, e se non fosse comunque ben rifinito, eccetera, eccetera, sarebbe praticamente da buttare. Confermo, lo potete chiedere anche al bar qui vicino, dove va ogni tanto a ubriacarsi, loro lo vedono sempre. Veramente pago con Apple Pay, comunque, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, ragazzi, in descrizione troverete anche un codice sconto che si chiama EvoSmart 10, vi darò la possibilità di avere un 10% di sconto sul valore finale, con spedizioni gratuite in Italia, attenzione, anche su questo loro ci tengono molto. Quindi, sono portafogli che costano all'incirca 45 euro, oggi che stiamo registrando il video, ogni tanto Muero mette a disposizione anche il portafoglio del mese con sconto che arriva fino a 35 euro, ci risparmiate anche un ulteriore 10%, perché non è che hanno solo questi con Airtag. Tra l'altro, vi fanno il portafoglio personalizzato, potete metterci il logo sopra, potete combinarlo come volete, poi sono simpaticissimi, sono italiani, vi rispondono subito, di conseguenza, mi raccomando, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Tornando a parlare un po' di Airtag, è utile davvero, serve davvero, ne sentiamo la necessità? Allora, un localizzatore in generale, poi dipende da persona a persona, però può senz'altro essere utile. La cosa che trovo che fa sorridere è che l'abbiamo fatta passare per la novità del secolo, quando in realtà i localizzatori esistevano da una vita. La novità forse sta nell'aver integrato una soluzione del genere con il loro ecosistema, facendo diventare tutti gli iPhone praticamente a giro per il pianeta una sorta di mappa dove poter rintracciare sempre il proprio dispositivo, tipo degli hotspot dove te puoi capire dov'è il tuo dispositivo. Tra l'altro c'è poco da fare, no? Apple quando fa una cosa la fa bene, cioè costruita bene, graficamente davvero perfetta. L'unica cosa che vi vorrei far notare è l'AirTag. L'AirTag in sé non è altro che un bottoncino alla fine con una batteria allo suo interno, però si graffa ragazzi solo a guardarlo. Cioè veramente appena comprato, già dopo due secondi c'era un graffio sopra. È molto molto delicato, quindi stateci ben attenti se lo inserite dentro un portafoglio senza appunto un'apposita tasca rischiate di rovinarlo, di graffiarlo, poi vabbè potete personalizzarlo come volete. Secondo me anche qui vedi da un piccolo oggetto Apple nasce anche tanto interesse a livello economico delle aziende, vedi? Oltre ai portachiavi, adesso i portafogli. Cioè l'hanno creato gli altri, se lo sono cagati nessuno. Lo crea Apple, boom! Dietro c'è sempre... La loro capacità di fare scuola su tante cose è indiscutibile. Pazzesca, vero? A livello marketing sono secondo me i numeri uno. C'è poco da dire. Io, ecco, non dico che mi sento tranquillo se perdessi il portafoglio veramente, quindi se non lo lasciassi in macchina, perché la mente è quella che è, la memoria è quella che è. Se lo lasci in macchina poi lo ritrovi però. Sì, vabbè. Lascialo in metro, lascialo. Lo so, lo ritrovo, però hai visto il panico che dicevamo all'inizio. Ecco, con questo piccolo accorgimento che alla fine costa 35 euro un AirTag. Non dico che mi sento più sicuro, però comunque hai una maniglia in più da aggrapparsi, no? Per stare un attimino, un pochino più tranquillo. Ovviamente questa non è una recensione sull'AirTag perché ne avete viste a centinaia e poi alla fine non è altro che un localizzatore, come abbiamo già detto. Quindi era un po' per unire la tecnologia comunque anche alla moda perché il portafoglio fa parte del nostro abbigliamento, dei nostri accessori. Quindi noi vi attendiamo come sempre qua sotto nel box dei commenti se magari avete già acquistato un portafoglio numero o se avete acquistato un AirTag e cosa ne pensate, cosa ci volete dire. Io e Flavio vi attendiamo qua sotto nel box dei commenti. Vi ricordiamo il coupon sconto EvoSmart10 che vale il 10%. Link sono tutti in descrizione del sito ufficiale e niente, da Guerza e da Flavio è tutto ragazzi noi ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti!